Eccoci qua bimbi, il lavoretto come dicevamo è finito, abbiamo il nostro pulcino arrampicato sulle uova e adesso la poesia. Questa poesia l'ho scritta per voi e l'ho scritta pensando alla Pasqua, ovviamente, pensando al nostro pulcino che si è arrampicato, ma pensando anche al momento particolare che stiamo vivendo. C'è un pulcino assai vivace che ci vuol parlare di pace, quindi prova e poi riprova e è salito su due uova. È piccolino ma tanto saggio e da lassù ci manda un messaggio. Io per Pasqua non voglio niente, solamente tanta gente, tanta gente in giro tondo. Vorrei abbracciare tutto il mondo perché ho capito il regalo più bello è stare vicino a un amico, a un fratello. Gesù risorto aiutaci tu, per Pasqua non voglio niente di più. Buona Pasqua!